Sultano, Laser, Enrico Bellei, Sorens Petty, Edoardo Moni, Ser, Slide, SM, Marcello Di Nicola, Siesta Capar, Sandro Capenti, Sandro, Giuseppe Lombardo Ioni, Showmar, Antonio Grippi, Serena degli Dei, Davide Di Stefano, in seconda fila, Supremo, Manuele Matteini, Saigon De Grippi, Andrea Esposito. Scacco, molto veloce Sandro all'attacco di Sorens Petty, ma sbaglia Sandro, largo e rapido anche Showmar, va su Sorens Petty e passa 200 in 14,5. Intanto è rimasto lontanissimo, Saigon De Grippi chiude il gruppo Supremo, intanto va sulla prima curva con Showmar, a comando Sorens Petty che sposta e sfila dopo 400 in 30,5, terza posizione allo steccato per Sultano, Laser, largo viaggio a Serra, Slide, SM, poi allo steccato in quarta posizione Sissi Ross, 600 in 46, siamo a metà della retta opposta alle tribune, Sorens Petty in vantaggio, largo, Ser Slide, SM, in corda c'è Showmar, all'esterno in risalita Siesta Capar, poi ancora Sultano, precede Sissi Ross, Sirena Degli Dei all'esterno, quindi Supremo, a chiudere il gruppo, il primo chilometro in 1,17, scarso. Mancano ora 500, scarse alla conclusione, Sorens in vantaggio, Showmar di rincalzo, allargo Ser Slide, la rottura di Showmar a 400 alla conclusione, e così ripiega Ser Slide nella scia di Sorens Petty che cerca la fuga, ingresso della retta di arrivo, Sorens in vantaggio, poi Ser Slide, ancora di dentro Sultano Laser, allargo Siesta Capar, Sorens Petty allunga, saluta tutti e se ne va a vincere nel più facile dei modi, per isolamento Sorens Petty, poi Siesta Capar e Sissi Ross.